Molto bene ragazzi e ragazzoni, guardate qui chi ci sa, chi vi ho portato sul fantastico gioco di Pac-Man C'è la nostra Gamerina un po' scocciata da come vedo e dalle sue fantastiche faccine Quest'oggi siamo prontissimi a giocare al gioco di Pac-Man ragazzi Un gioco che la nostra Gamerina dice che ci ha giocato, fortissimi, bravissimi, campionisti del mondo No, vediamo la nostra campione insomma, ma è una mazzina che ci ha già mai inbalzo, non ha mai credito Ma non ha mai, non ha mai, non ha mai riposito, ma non ha mai, non ha mai riposito, ma non ha mai Si, ma non è quello che si chiama Pac-Man Ma non è quello che si chiama Pac-Man Allora, ma ti spiego, allora, rimani qua, allora con quadrato Si giocava a 2? No, a uno Ma non ho mai detto che poi si gioca a 2 Allora con X salti, se premi due volte X fai il doppio salto, esatto, fai questo rimbaldo Se premi X e triangolo, vola, vedi, cerca di volare, mentre con quadrato, tiri premuto quadrato, esatto, corre, lascia Mentre con cerchio lancia i pacman punti, adesso non lo puoi fare perché non hai preso pacman punti Ok, sei pronto ad entrare nel mondo? Ok, andiamo, vediamo un po' che combina ragazzi Allora devi entrare alla D, no ma non c'era bisogno di far tutto subito E ci fai tutta quella cagava alla D Non c'entri, ah ma devi andare dritto, camminando Ma non c'è bisogno di far tutto subito Ok, entriamo nel mondo La cannonata folle, questo si chiama, allora questo è difficile, questo è uno dei livelli più difficili di pacman 1 Allora ti dico di andare piano, motivo principale perché è pericoloso, ma dovresti fare un salto per arrivare fino ad all'altra sconda Senza prendere la palla, eh, non devi fare il doppio salto, devi farlo solo a un salto Vai Ok, premi il doppio salto, premi il doppio salto qua sopra Esatto qua, schiaccia No, fai il doppio salto, bravissimo, si apre la porta e tu entri nella porta Bravissimo Adesso devi fare la stessa cosa, esci, devi fare la stessa cosa che hai fatto giù però andando di là Aspetta che la bomba esplode e poi vai Diciamo questo è uno forse dei livelli più difficili Attenzione al signorino, devi saltare gli addosso, sennò ti sparo Vai, saltalo, saltalo Bravissima, bravissima Allora, qui salta Vai sopra a questo cosa E poi devi fare il salto e arrivare fino a dove sta il fantasma No, devi fare tutto da qua Mamma mia Ok, fai la stessa identica cosa Bravissima, ok, ora devi andare qui saltando una volta Salta E una volta la sua Oh, che bravissima Oh, scappa dei fantasma Vai a attivare qualcosa No, mamma, devi scappare dei fantasma Doppio salto Ai Scappa, scappa dei fantasma Scappa Prendi, prendi quel pac-man, punto Prendi quel pac-man, punto Lì, quello d'oro, quello d'oro Prendilo Mangiati a tutti Mangiali, mangiali Basta che vai vicino a loro e li mangi Ah, ma non devi saltare Ah, non devi saltare Ah, non devi mangi Manca un amore Che ricordi Ah, devi scappare Perché se no muori Devi scendere dall'altro lato Deve essere salito Scassa con la cosa Perché non hai scassa Dove devi scassare qualcosa Lassù Che non hai scassato Apri Dove aprile Vuoi premere il doppio fatto Ma te lo devi spiegare Vado a me due volte Devi prendere la lettera Devi salire, vai Cammina Ma che stai facendo da te Deve uscire qua Mangia Prendi la P e vai sopra quel foso Quello là Sopra il rullo Mangu, mamma mia Però che ricotta Ok Vai Scende al piano di sotto No, così Nuo devi saltare verso di là Ok, siamo al checkpoint Stessa cosa andando di là Ora doppio salto Bravissima, bravissima Ok Questa è una parte più difficile Allora devi andare Sopra quella piattaforma Qui devi tenere premuto Quadrato E camminerà Però devi stare attento alle valle Quindi devi cercare di scappare prima possibile Quindi aspetta Quadrato 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 Di premere quadrato Di fare la corsa Fare la rimbalza Devi tenere premuto Per camminare Però no Ho rischi di perdere la vita Ok Ok Rimbalza Entra dentro Stessa cosa anche qua Esatto Stessa cosa di quella di sotto Quadrato Non mi ricordo Momentaneamente non interessa Parò Fai il salto Che vola Ma che ti interessa Non devi utilizzarlo Che fai? Amu Che fai? Non ti puoi muovere là sopra Non ti devi muovere Perché cadi Sì Devi premere solo quadrato Ma è difficile È un gioco dei bambini Ragazzi È un gioco dei bimbi È come ho fatto prima Esatto Che ho detto io Devi fare come hai fatto prima Cioè Devi evitare Esatto Questo errore qui Devi cercare di non fare Ok Ma uccidi il pappagallo Come devo fare? Mi sa tagli addosso Come hai fatto 5 secondi fa Rompi Ma hai doppio salto Come hai come si ruba? E mo l'hai fatto Scendi giù Così Così Eh come puoi scendere? Ma Ma so quasi perdendo Eh esatto Cioè è incredibile Non avevo perso una vita Andare sul gioco Come stai facendo perdere una vita? Io? Che devo fare? Ora devi andare un'altra notte Lai fa una notte la stessa cosa Comincio a falla Poi vediamo Mamma mia ragazzi Mamma mia Ok Mo prosegue Prosegue dritto Dritto Uccidi a quello Uccidi a quello Uccidi a quello Doppio salto Doppio salto Ok Entra qua dentro Nella porta Bravissima Attiva Attiva Malo Doppio salto Sto facendo a mezzo Questi doppio salto Prendi quella mela Dall'assuro che è uscito Ok Torni indietro Attiva qua Vai al piano di su Esci Vai dritto Ok Mo adesso Devi tenere premuto quadrato Di nuovo E vai avanti Senza morire Cerca che stai solo con la vita Quindi è rischiosissimo Ok Salta Scendi giù piano piano Senza morire Brava Vai a aprire la porta La porta devi aprire Non devi saltare Devi andare vicino E poi fai il doppio salto Lo attiviamo Ok Pensavo che non lo volevi attivare No Mo devi seguire quel Weepack Mangiatelo Il primo Questo qua Come si fa? No lo devi saltargli vicino Amore No A direzione E vieni più avverso di me Amore Ma che fa? No Dovevi fare una semplice cosa Dovevi mangiare quel fuckman punto Ma che ci voleva? No Hai perso la vita E quindi? E quindi? No E bisogna continuare Perché hai preso il check point Però mi hai perso una vita E quindi che c'è? Niente E non posso completare il gioco Con 99 vite Perché tu hai perso una vita Perché mi hai perso una vita Allora Ciao Fanculo Vai proseguiamo Mamma mia ragazzi Mamma mia Ma come si va a portare a lei Di Disney gameplay È impossibile Devo continuare Posso? C'è Ma qualche fuori Che stava sparando Ma dove vai? Ma dove vai? Quando andai Sì ragazzi Raga veramente È un incubo Far giocare a lei I giochi È impossibile Stiamo giocando In un gioco del 1999 Tra l'altro Tra cui anche il remote Devi andare dritto Dove vai? Dove vai? Dritto devi andare No fermati Ma qua devi tenere Il primo punto quadrato E ti devi lanciare Lascia Prova Allora Ma scendi al piano Di sotto qua Vedi che stanno I scalini Scendi Brava Scendi Brava E distruggi Quelle tue cose Rompi Doppio salto Mamma mia Stiamo facendo Un'ora e mezza Sto doppio salto E manca Siamo parati Che regoloso Non lo so Comunque Ma sono Gli nata Lo tocca ancora Salve Ora devi tenere Premuto quadrato E volare Vai Ok Attiva quel coso Devi attivare Devi andare vicino Alla porta E attiva Perché vuoi premere Il doppio salto Prima del previsto Ma devi stare Attendo I fantasmini Perché sennò Devi andare a mangiare Il pacman Punto Amo hai detto Che è giocato A pacman Dei saliti sopra Lassupra Sali 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 E ora mangia Ti è lui Mangia Mangia Vicino Sì Ah Completa Vedi Sta scritto Quando mi ha mangiato Sennò che hai completato Mo fermati Ora vai un'altra volta lì Esatto Stessa cosa di prima Quadrato E vai Vai Vedi Questi sono in modo diversi Vengono sparati Ok Mamma mia Raga Mamma mia Incubo Ok Incubo Allora devi andare dritto No qua non puoi andare Vedi che non ci vuoi Non tieni la frutta Allora vai dritto qui Poi ce lo faccio fare Mo questo Allora Mo vedi Qui si stanno alzando Queste cose Quindi tu devi saltare Là su Ma devi essere veloce Perché così abbassa E quindi Cadi giù Quindi 3 2 1 Via Non devi fare Il doppio salto È perso Non devi premere due volte X Una volta Una Una Volta Se fai doppio X Fai il doppio salto Ma quante volte No perché Ma perché mi perdi le vite così No raga Non è proprio No non è arte 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 Non è proprio arte Non è arte Non è proprio arte Ma no Non c'è due senza tre Sicuramente Già me ne perso tre Basta ne avanza Ne scrive I tre vite Che mi perso Cioè non era niente di più facile Secondo me non esiste niente di più facile Di questo gioco E di facilissimo Una volta dovevi premere quella Ma lo devi rifare Ma te lo faccio fare una volta Però poi lo devi fare una volta Dal ritorno È perché lo devi fare una volta Vai Una volta Devi premere Una volta E visto come ho fatto io Esatto Non ce la farà mai Aspetta Ora 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 Sarta veloce Mamma mia Che cula X Scendi Qua la cula Ma questo è bravo Vai avanti Vai avanti Vai avanti Ok Qua devi premere quadrato Come hai fatto prima Ti ricordo no? Amore lo stai facendo Lo stai ripetendo Ok Ma doppio salto Ok Lo stiamo facendo Un sacco di volte Per fortuna Attenzione qua Che arrivano le bombe Quindi corri il più veloce possibile Scappa Scappa Prendi quel gettone Brava Qui devi fare una corsa Quindi riman- No Che è? Deve torna- Buttati Distruggi tutto? Distruggi all'oro? Ma perché sono di- Ah ma zitta Non parlare No ma non li puoi uccidere più E li hai perso Troppo tempo Ma che fai? Ma come si fa a cadere giù lì? Come si fa a cadere? No Credi? No Cioè ma come si fa a perdere? No ma tu mi perdi lì Una percocca Una percocca lessa Come si fa a cadere là ragazzi? Secondo me è impossibile nella storia Penso che non è mai caduto nessuno lì Come si fa a cadere? Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che combini? Devi andare a uscire da quelli Ma che combini? Ma che combini? Fermati Calmati Mamma mia Mimico mi ha fatto perdere un sacco di vita Ok devi andarti a buttare lì Vedi sta pure te lo dice Ma tu perché scendi? Devi salire Devi saltare vai Vai Attenzione alla bo Ma no Ma no Ma ce lo devo dire È tutto io Ma non vedi? Raga ma come si fa? Ma ho vinto Ma che vinto? Ma come si fa a vinto? Che devo fare? Devi scendere al piano di sotto Dove sei a paccamanna che vuoi mangiarli? Giù Ma non qua giù Là era No Niente Ma che ti devo spiegare Ogni cosa Ma non si può spiegare ogni cosa È impossibile È matematicamente impossibile Sta là e paccamanna Va a mangiare a tutti quanti qua Vai mangiali Vai piano di su Rick Rick Mangiali 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 Bravi Questo è completato Ora devi andare qua Vedi dove stai a sto forzire Quindi sali un'altra volta su Dove fa Esatto Ma ragazzi Vuole veramente una santa piacezza E fa giocare a questa bimba Ma che cazzo convine? Dove sei andato? Sei per lo stesso punto di prima Non è che cagnate Tu hai fatto un errore Quindi devi ripeterlo Comunque ragazzi Veramente a parte scherzi Veramente non so come Devi scendere qua sopra Mamma mia Com'è boccio Ma che devo fare? Ma come cosa devi fare? Devi rimbalzare Amo sei andato un'ora e mezza A fare questa cosa Eh quasi Eh ma vai un'altra volta all'angolo Che sei? Queste è Però ci sta mettendo un'ora e mezza A fare su Ma 15 minuti Io di solito in 15 minuti Già vado a finire Ma che stai facendo? Ma ho finito Ma che è finita? Ma devi continuare Dove? Devi scendere giù Ah ma io non voglio Ma io non voglio Ma io non voglio Non è grave Ciotte ciotte È grave proprio Che giochi elementi Dopo non lo tieni Quindi dobbiamo andare dritto Dobbiamo andarlo a prendere Questa cadere giù Ah ma devi cadere qua C'è un po' di cadere Esatto Vai cammini Piggi su C'è un po' Noi Stai attendo a chi lo cosi che spara Ah non lo fai Ah non lo fai Alla tu l'hai Come devo fare? Devi stare tagli addosso La stessa cosa mi hai fatto con gli spiriti Ah ok Pià C'è sagge che ne perde una nata vita Assurda Pià qualcosa là sopra Vedi? Salta Ah esatto Mo uccidi questi animaletti Tutti andibati Ma una oltre Basta Ma che ricotto Come si fa a perdere lì? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Non te li faccio Ma no Come rifai? Ma cosa vi fa? Devi andare un altro l'altro lì Di qua A avait A might A might Adesso Devi andare avanti Cosa adesso? Devi tornare indietro vogliono mamma mia facci più la camera ovviamente sa che cosa è preso non so manco che dove vai dall'altro lato devi andare non è preso il coso del labirinto hanno diventati da mamma mia raga non si può giocare ragazzi non ci sarà mai più un video player di lei veramente mi toglie 10 anni di salute a vedere dello scempio è uno scempio ragazzo ma creiamo si può pesca mamma mia è giocata a partito noi vola abilindo se vola brisi vediamo come devo fare a capa se non se non muore perché i pacman puntiamo è mai giocata pacman questo è giocato a pacco con questo lo conosce a memoria è infatti questo faccio aiuto uomo aiuto giù la vai giù la vai giù la aiuto aiuto ma qui non mi prendono quelli la grandi non mi prendono c'è il rischio che non riesco a fare il livello a voce se per di un altro amo prendersi pacman punti stilosi giall se no se non non finisci il labirinto aiuto 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 mamma mia raga mamma mia un ingo ma di testa non ti puoi vedere andare da giocare ai giochi veramente è impossibile 15 minuti ehi mamma è una campionessa fortuna questi sono i labirinti elementari non si immaginaria i labirinti da un po' siiii non è finito il livello è finito il labirinto un livello ancora non ammolica un livello ancora lungo sento che sono 15 minuti eh ma è una persona normale no anormale come te è impossibile 15 minuti vai conti che devo fai devi uscire da questa stanza e devi andare dritto vai dritto vai dritto ok vai però si mamma che fai tu vuoi che ti abbascia non ci capisco no nata vita mi volevo mi volevo togliere a me perché mai aspetta nata ma no vai no vai in gritta ma che fai perché salva no devi correre non devi saltare no no semplice devi andare in coppia tu dici pure che devi fare ah beh no quadrate teni premuto un po' attenta che fai? devi teni premuto eh ma 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 ah ok così ma aiuto ma 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 e saltare sul pacco amputo, prendi il pacco amputo, lì, lì, prendilo, ah, mangia e ti fa andare ho mangi uno se l'ha mangiato, si, due, ho mangiato, mangiali, basta, è firmato, è firmato e devi proseguire, mangi un'espina cremata, vai, mamma mia, incubo giallo, aspetta, guardati i tempi, guardati, 3, 2, 1, ok, vai, vai, ok, bravi, stessa cosa andando là, stai attendo la cosa e se attende a quello, poi gli devi schiettando, ma come ci arriva l'angolo, vai più dentro, vai più dentro, più dentro, più dentro, troppo dentro, sei andato e non puoi camminare, va, va bene qua, no, ammo, inti, spungo e chiudo, ma, ma, ti ci fa streare, qua, dentro, eh, ok, va, eh, no, ti è uscita una da voto foro, ma poi, ah, fai come dici tu, ammo, pure hai fatto la stessa cosa che hai fatto là, però hai l'angopi, ops, ma, allora, prima che perdi tutte le video, onestamente, non vorrei ripetere il gioco tutto da capo, perché, modestamente, non è che tengo tanto tempo da perdere, onestamente, non ho tanto tempo da perdere, cioè, il gioco elementarissimo, allora, come è facile, ragazzo, facilissimo, infatti che devo saltar finato, ma come si fa, ma zitta, questi giochi dei bimbi, questi, questi giochi dei bimbi, mi faccio solo la bimbi, infatti, ma infatti manca che lo sapevo, ma, ma, pochissimo, c'è giocato, infatti, raramente, c'è giocato due volte pure a stare tu non capi niente dei giochi non mi conoscivi i giochi, dai ok, grazie, proseguimo? si hai fatto la stessa cosa come stai facendo fino a mo', esatto, qua devi stare veloce, vedi, perché si alzano tutte e due, devi essere velocissima, veloce, veloce, va, meno male allora, stessa cosa qua, vai, 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 vai c'è un punto bomba nel forziere rompi il forziere il forziere ho detto ora basta, non saltare mai più in tutta la tua vita boh, prendi questa vai là sopra, una sola volta devi premere X una sola volta là sopra, eh una sola volta lì sopra una sola volta lì devi andare, non devi premere, qui, 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 qui una sola volta salta ora, premi il doppio salto esatto, bravo, visto, distrutto tutto un colpo andiamo dove vai, dove la frago la voglio non ci lo fotto, però la frago, la frago la troppo di là ma loro ragazzi hanno giattamente sangue vai giù ma cai piano, sei piano niente, non ti rispondo proprio vai, proseguì che cosa devo fare ce te lo fa vedere il gioco e sta attaccando stai attenta cammina piano perché qua se cadi perdiamo tutto vai piano 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 prendi questa qua bravo scegli giù come 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 nel buco sei scendendo nel buco proseguì vai guardi devi fare la stessa cosa devi andare vai 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 non saltare calma ora devi scendere qui giù perché? però è difficilissima sta parte meglio che facciamo mi diverto ma che ti divertiamo mi fai fare pasta di guai ecco sì ciò non mi ricordo ma mi ricordo se c'era qualcosa o lo so se c'era qualcosa o la c'era? eh lo so però non so se scendendo giù perdi la situazione non vorrei perderla non mi ricordo però anzi no perché poi dai la colpa a me ok e fa stessa cosa e si attaccano però è poi difficilissimo deve essere veloce vai 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 bravo ok distruggi ah brava ha preso tutte le lettere ragazzi ha preso ah vuoi andare al livello può prendere tutte le lettere ma non avevo capito no non è finita ancora perché? ma hai preso tutte le lettere ci sta il livello bonus che farò io perché il livello bonus dopo se si deve rifare devo fare di nuovo sto livello e non ho proprio intenzione di ripetarlo ti hai detto che era breve un livello invece no dura tutto sto tempo ma perché tu si lenta vorrei che facci dopo il livello finisci in due secondi ok allora devi saltare qui sopra come fate fino a mo si ma così si vede tutta la gamba no rimane tutto ok prosegui veloce 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 bravo ok mo saltagli un gullacchissimo ok prosegui dritto non devi fare il doppio sal devi prosegui dritto correndo devi andare fermati qua devi andare e come faccio se la bomba ma la bomba non ti prende se non salti no vuoi premere quadrato quando ti senti proprio vai eh meno male tu ti fai colpire tu devi evitare di farti colpire vai tanto che è difficile no devi andare a cai e devi andare a cangop e mo è un doppio rimbalzo se non ci riesci esatto premi clicca scendi giù prendi quel pacman punto quello dorato magna tutto brava bravissima bravissima scendi giù fermati 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 ok scendi piano piano qua giù giù qua qua dove sta il tizio che sta imprigionato via questo aiutalo bravo è liberato il tuo amico grazie pacman vai remix una volta trovato darò una bella lezione a quel stockman ti aspetto fuori guarda ma ti lascio un oggetto ma tu te lo prendi ah non lascia l'oggetto che fregatura ragazzi all'epoca lo lasciava devi distruggere questa statua prendi qualcosa prendi bravissima ok livello bonus lo faccio io no dopo no non lo voglio ripetere perché questo ripeto se lo sbagli dopo bisogna ripetelo ok perché si può fare solo una volta ma che vuol dire quello che è per finire il gioco al 100% bravo amore bravo mi sempre aiuta adesso ragazzi che brava hai riuscito a fare i livelli ma gli facciamo fare il giro della fortuna perché c'è anche il giro della fortuna in cosa in cosa consiste questo giro della fortuna in poche parole nella slot machine deve riuscire a fare tutti i frutti uguali non è facile lo so però magari lei è fortunata poiché nel gioco è scarsa vai devi premere x per fermare e far uscire le tre cose ah tutte uguali esatto dai vediamo un po' che combi e come si fa devi premere x per fermare ma non riescono mai tutti e tre di filo uguali devi premere x per fermare la prima parte poi premi di nuovo x per fermare la seconda e poi la terza ok ci pensiamo giusto il trenzino mi pare che scenda nel mondo delle nuvole a volte ma non ti rimettai una te rendami lui fattilo lo studio cioè tu hai fatto tutto questo con la pisa e pia solo sto lì in modo di pianare con la tua stessa limosa non piglio il limone pezzo di limosa eh raga mi sa quanto ti giuro cò cadono gli altri 40 minuti sta partita no sbagli pure hai sbagliato ma ti muovi ma poi ragazzi per favore no cioè se no così non finiamo mai ma tu tre ore cioè una cosa veloce fai così ma non esce ma non è perché come hai fatto tu quanti diventati vi ho tre io io voglio provare ma non è tu amore no vatti trappo tempo perde non si può perdere tutto questo ti è come me è per vedere bene ma se è comunque sbagliato no appunto pure se non perdi bene se non perdi bene adesso ho capo ah no no basta hai fatto già abbastanza va sì mamma mia che stress le ragazze ragazze sono fidanzate che sono un guai sono un guai vedi sboccaz ma che fate che combina a secco pure io c'è un uomo tutta scrivano niente mo niente aspettare poi come finisce lanciare questa roba in da sta macchina per fare i punti ma come quello ma te lo fa fare finché non indovinare cosa c'è di indovinare tre uali finché non indovinare chi so cose bonus premio x apriamo x apriamo x allora apriamo x sei fallimenti sei fallimenti mamma pochissimi sei volte vabbè se sei vile ragazzi sei ho provato un break i'm fine ah ragazzi ok termina sblocca l'episodio valero volante questo è il boss no non lo voglio siamo chissà quando avete un bel dopo che questo è uno dei boss più elementari proprio facile ah questo non me l'hai fatto fare ma perché non serve quindi perché fare un attacco che momentaneamente non mi piace vabbè ragazzi questo è il gioco di pacman pacman world repack gioco remasterizzato remeca del lontano 1999 con la nostra gamerina episodio davvero assurdo perché 30 minuti per fare un solo livello è veramente davvero esagerato grazie a tutti per la visione e alla prossima non mancate grazie a tutti grazie a tutti